Sono stessa per il comune di Calavetta, un comune di circa 2.800 abitanti con un organico di 14 dipendenzi in una zona turistica dove i picchi di presenza sono importanti durante il periodo estivo ed è il motivo per cui mi hanno deciso di partecipare al progetto e di farci supportare nell'attività di gestione delle entrate, che è un'attività in questo momento per noi che è un punto dolente e per il quale abbiamo deciso di investire sia sulla formazione che sul potenziamento, l'affiancamento della parte di questo progetto per poter risolvere degli obiettivi che sono da una parte ovviamente migliorare l'entrata del comune e dall'altra ovviamente necessariamente anche poter pensare all'impotenziale dell'organizzazione stessa. È un progetto a cui noi ci siamo dedicati e che credo sia fondamentale per i piccoli comuni uno perché si sentono meno soli e in questo momento storico anche particolare dove dobbiamo affrontare grandi sfide e arrivare alla realizzazione dei grandi progetti e quindi avere supporto come quello che ci è stato offerto è stata veramente una cosa fondamentale per gli amministratori locali ma anche per i funzionali indipendenti dell'Encro.